Tirano un sospiro di sollievo i sindaci del territorio e del comitato no inceneritore dopo l'approvazione di ieri da parte del Consiglio regionale della Lombardia dell'emendamento anti Piero Lisi. Manca ancora il diniego della Commissione Tecnica, ma questo ulteriore tassello nella battaglia all'inceneritore dovrebbe definitivamente concludere una lotta durata anni. Il Consiglio regionale ha infatti votato la proposta di legge numero 308 denominata Riorganizzazione del sistema Lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio. Legge che all'articolo 11 presenta un emendamento che con la sua approvazione va ad incidere proprio sul progetto della Piero Lisi con effetto retroattivo. L'approvazione di questo emendamento è un'ottima notizia rispecchia la contrarietà che anche il governatore Maroni aveva personalmente espresso verso l'impianto di retorbido. Così l'eurodeputato Alberto Cirio commenta l'approvazione dell'emendamento che vieta impianti per i rifiuti nelle aree naturali protette. L'impianto di retorbido non andava e non va fatto perché non rispetta la vocazione rurale e agricola d'eccellenza di una parte così importante del territorio. Però fino a quando la partita non sarà definitivamente chiusa e la legge non sarà recepita a livello amministrativo mettendo nero su bianco che questo impianto non deve essere costruito la petizione che porta la mia firma a Bruxelles insieme a quella di tantissimi sindaci resterà attiva e la Commissione europea continuerà a vigilare.